Buonasera, per la festa. Chiedo tutti, è che io sono un buon parlatore, che sono un buon parlatore, ma da anni a te, faccio un delegato ma da un anno. Non mi volevo portare, non mi volevo portare, volevo portare un po' la portata, a inizio, prima di anni e anni, si. Io ho assistito a un anno di un'altra che si è setta a San Mauro, ha scelto quello che si fa, il segretario dei Valori, il segretario, non lo so, ma... il dottor Lacroix, ha partecipato a un test, ha partecipato, che poi è stato un comunista, i comuni italiani, c'era tutta la, la rete, ci stiamo dicendo, ci sta cercando di riconcorrere. E quella testa, cosa che dice in un episodio, quando ci fu, e quali sono gli studenti, questi interventi in cui si proponì, questo prodotto, si fa una po' di giù, ma si, per esempio, che erano le rette, 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 che, le rette... in quella testa, le rette, le rette, in questa presse, e sempre... … non posso prendere le rette... perché non sei carico, non sei il Dio. Il Dario, non proprio ricordo una stessa grande dell'epoca che non ricordi di Cossette, che non conoscevano il suo governo, dice, ma vale la base, che non lo sa rispondere altri partiti con cui voglio cercare, quindi non sono un libro di un messaggio per il momento. Per il momento, dopo un'anima di un'altra scuola, la cosa non è un po' Poi, dopo volte, abbiamo preso pure le paghere, le pare compositibili, i costetibili, i costetibili. Allora io ho messo quasi 80 anni, vediamo un'attesa che non faccio voi, da 4 ore, 8 ore, 9 ore, 8 ore, 9 ore, 10 ore, 10 ore, 11 ore, 11 ore, 12 ore, 12 ore, 12 ore, 12 ore, 12 ore, 12 ore, 13 ore. Secondo di queste situazioni, ci sono per me in perspetuale, nel senso. Perché quando ci si mette con un serbio di compagno di viaggio, si deve sapere che ci si mette, perché nel strato è stato deciso delle pezzi, o quando questi sono dei pezzi dei compagni, dei nemici, lo voglio dire qui in questo caso, però cosa ci succede? Allora, secondo io, è evidentemente un fatto un'errore valutazione, prima di poter intraprendere una nuova avventura, e questa avventura non si è conclusa, ma la di questo caso, e per chi l'ha votato, me compresi un conto, me compresi un conto, allora questo è un punto che io vi dico, quando si fa una guadagnia scolastica, non sono tante contratti a incorporarmi quel cammino, eccetera, ma per gli uomini delle decisioni che non si dispense, perché se io metto un uomo è stop, lo so che no, perché tu non fai un uomo è stop, questo è quello che io vorrei dire, il ritorno è stato fatto un conto, ma se voi valutano la vicina, la vicina, da ora dobbiamo vedere cosa fare, il futuro è complicato, forse non si è un conto, non si è un intervento, non 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 è un intervento, diciamo, delle quattro e gatte che io ho denunciato in questa settimana, io vi do una cosa, noi abbiamo condiviso con alcuni soggetti tre anni di opposizione ad una linea politica, con alcuni soggetti abbiamo condiviso con alcuni soggetti una linea politica, altacomistica, con alcuni soggetti sembrano ferrari, premiso che il primo c'è che tu fa il detenimento, altro è un intervento, non è un intervento più, e quindi la vittima degli attacchi di vero, quindi non è in nata una devoluzione articolata in maniera non-nologENIA. Però, beh, è facile vedere che la colpa di l'uomo non è mai possibile che la colpa di l'uomo anche se noi siamo tornati a tre. Chiari? Perché voglio di affeggiare, come ho scritto, perché anche io che va susserito sull'altro lato. Il titolo era Cazillo il mare, virgola, segnale l'ambiente che Cazillo sicuramente ha presentato e ha costruito negli anni di nette, numerosi, a volte interdonati di errore. Nel volete liberare la propria del tutto inutile, questo è quel concetto, ma il problema non è Cazillo, è Cazillo che si viene a Cazillo. Cazillo è quello che mi braccia alla fine politica. Il punto è il suo senso. Quindi, conseguitemi se il politico immaginato che la coalizione potrebbe essere fatta o non fatta rispetto all'un uomo diventato più. E' un sistema, come dicevo prima, della risposta di una dichiaria, che è un sistema difficile da ridurre. Tu sei una politica dichiaria e quando io presento una persona che ne mette i giorni andate, la tua politica è difficile farlo, perché c'è il bisogno, non capisci cosa più no. Chiaro? Non hai fatto la domanda, hai fatto l'intervento. Vabbè, quindi, non hai bisogno di fare l'intervento, però facciamo più di fare l'intervento. Ho fatto l'intervento che contenteva una domanda, perché non ci avessi pensato prima di fare l'intervento? No, perché, chiaramente, di chiudizia la verrà, non c'è niente da verrà. Allora, io credo, proprio il bisogno che io penso che io penso che io penso che io penso una bella opposizione a una cazionata. Aspetta, l'intervento. L'intervento.